straordinaria apparizione di san charbel nei pressi della sua tomba salve a tutti carissimi oggi voglio tornare a parlarvi di san charbel e ne approfitto per per ringraziarvi insomma per tutte le lettere che mi avete scritto relative al all'olio di san charbel al video che ho pubblicato sull'olio miracoloso di san charbel e che ha compiuto nel mondo già moltissime guarigioni ne approfitto per fare qualche precisazione già l'ho detto in quel video ve lo ripeto che assolutamente sono da seguire tutte le terapie dei medici e quindi questi l'olio di san charbel le acque miracolose di lourdes e santuari vari eccetera eccetera devono essere un di più alle terapie dei medici a cui voi se avete delle patologie vi dovete attenere con scrupolo quindi non è che uno dice no adesso non non vado più dal medico non mi curo più perché ho l'olio di san charbel mi prendo l'acqua di lourdes eccetera eccetera no bisogna sempre seguire le cure della medicina tradizionale e poi provare con percorsi insomma della possibilità insomma le speranze che offre la fede a a vedere se ci può essere un attimo un giovamento anche ricorrendo appunto ad un olio miracoloso come quello di san charbel oppure alle acque dei vari santuari tra cui lourdes eccetera eccetera quindi mi raccomando sempre di utilizzare questi strumenti di fede messi a disposizione dalla grazia e dalla misericordia di dio come un di più alle terapie tradizionali vi ricordo inoltre che l'olio di san charbel lo potete richiedere ai padri maroniti di roma e chiaramente insomma loro lo danno gratuitamente insieme ad un sacchettino con un incenso e una piccola reliquia di stoffa che è venuta a contatto con il santo con la tomba insomma di san charbel e però è chiaro che se fate loro una piccola offerta veri saranno sono molto grati insomma sono di vede veramente dei doni molto preziosi ecco una piccolissima offerta anche minima insomma non guasterebbe per tutto ciò che che loro fanno insomma per assicurarci questi doni veramente che non hanno che sono veramente inestimabili oggi e torniamo a parlare di san charbel che detto come lo ricordiamo il parripio del libano è morto nel 1898 ha sempre condotto una vita assoluta preghiera e lavorando anche duramente nei campi e poi di ritorno ai campi era capace insomma di passare ancora nonostante la stanchezza lunghe ore in preghiera e in adorazione abbiamo ricordato appunto come il fenomeno dell'olio miracoloso sia legato proprio al al fatto che l'acqua di una lanterna è riuscita a alimentare una fiamma nonostante come si chiama fosse acqua e non olio diciamo no non olio combustibile e quindi diciamo ecco che per quanto riguarda san charbel la cui da cui tomba emana un liquido misto a sangue e che insomma davanti alla tomba san charbel tuttora accadono dei miracoli straordinari e ve li racconterò in un prossimo video vi invito a recitare la coroncina a san charbel e anche a fare la novena per chiedere grazie a questo santo veramente strepitoso c'è un qualcosa un mistero che riguarda san charbel cioè che nessuno ha mai visto il volto di san charbel dopo che gli fece il suo ingresso in monastero chiaramente i suoi confratelli invece con il volto loro vedevano questo discorso riguarda coloro che erano al di fuori del monastero e quindi penso tutti quanti noi e nessuno ha mai ritratto il volto di san charbel nessuno ha mai fotografato in vita san charbel i confratelli ricordano che aveva sempre il cappuccio calato sugli occhi e tuttavia oggi noi di lui abbiamo un'immagine che lo rappresenta con gli occhi rivolti verso il basso con un viso dolce illuminato da una bontà ultraterrena e da una mistica pensosità incorniciato da un'austera e saggia barba bianca e un semplice cappuccio da frate quindi se nessuno l'ha mai visto se nessuno l'ha mai ritratto se nessuno gli ha mai scattato una fotografia come mai è diffuso questo questa immagine di san charbel da dove proviene ebbene l'otto maggio del 1950 e quindi quando era passato circa mezzo secolo dopo dalla sua morte in coincidenza con la sua data di nascita l'otto maggio appunto alcuni missionari maroniti scattarono una foto di gruppo insieme al custode presso la tomba di san charbel il libano durante lo sviluppo del rullino apparve un ulteriore personaggio che potete vedere nella foto un monaco dalla barba bianca a mezzo busto con il cappuccio e gli occhi abbassati e questa foto che voi vedete insomma fu analizzata con grande cura e si scoprì che non vi era alcun fotomontaggio i monaci più anziani riconobbero in quel volto il volto autentico di san charbel con le sembianze che egli aveva assunto nel corso degli ultimi suoi giorni di vita mortale quindi ecco vi lascio queste immagini in particolare questa proprio lo ritrae a mezzo busto perché le possiate conservare sul vostro telefono e possiate recitarvi davanti sia la novena san charbel che rosario san charbel e se qualcuno c'ha l'olio miracoloso di san charbel ecco recitare la preghiera di guarigione che vi avevo messo nella descrizione del video dedicato proprio a quest'olio miracoloso e a unire a queste immagini l'immagine di gesù di maria del crucifisso insomma della santissima trinità anche di san giuseppe e pregare proprio tenetevela in casa questa immagine pregateci davanti perché può essere fonte soltanto di tante grazie e benedizioni grazie carissimi a presto